Poi non dite che non vi voglio bene perché in mancanza di tempo bisogna fare anche così Sono appena uscito da lavorare, lì è dove lavoro Questo è il pc che mi porto dietro perché è in pausa pranzo Purtroppo non mi riposo ma edito i video perché se no non ce la faccio mai a portarvi nuovi contenuti Ma ho deciso di fare un piccolo vlog anche perché ho fatto qualcosa di simile anche l'anno scorso con l'ufficialità di Egwene Questa volta non ho atteso l'ufficialità e spero di non fare una brutta figura Spero che possa davvero concludersi così la trattativa come stiamo leggendo in queste ultime ore Ma sembra proprio che Douglas Costa sia ufficialmente, anzi no, ufficialmente no Ma praticamente un giocatore da Juventus E cosa fatta? Dovrebbe essere un prestito per 6 milioni il primo anno con obbligo di riscatto Il prossimo anno a 40 quindi 46 milioni totali per un giocatore classe 90 che è veramente un grandissimo player Sono proprio contento di questa operazione e spero che possa terminare tutto per il meglio Tra l'altro il Bayern per rimpiazzarlo in due minuti ha deciso di prendere James Rodriguez È il DS del Real Madrid che ritrova Ancelotti dopo una bellissima stagione un paio di anni fa E che cosa dire? Io sono proprio felice perché questo è un segnale importante La Juve per adesso ha comprato due giocatori, Schick e Douglas Costa Parliamo come se fosse già arrivato Il che vuol dire che Allegri punta ancora tanto sugli attaccanti E vuole ancora una volta una Juve a trazione anteriore Segno che ha capito che quello è il modo ideale per la sua Juve di arrivare a grandi traguardi Come la finale di Cardiff di quest'anno Cercando di replicare al prossimo anno a Kiev E a questo punto mi viene da dire che non ci saranno grossi investimenti per un centrocampista Anche se in realtà servirebbe per come la vedo io Perché si sta parlando tanto di Bernardeschi E spero che sia il prossimo colpo ufficiale di questa Juventus Anche se nel frattempo si avvicina molto 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 Scesni Come possibile erede di Buffon o comunque doppione di Buffon Come secondo barra primo Ne ho già parlato nel video del calciomercato della Juve Perché l'Arsenal non l'ha convocato per il ritiro Al pari di Diego Costa come ha fatto Conte E quindi questi sono indizi che portano vicino Scesni Alla causa bianconera, alla porta bianconera In questo momento io posso solamente essere felicissimo dell'arrivo di Douglas Gli do il benvenuto in Italia Dato che questa sera dovrebbe essere già a Torino Dove domani suesterà le visite mediche Un acquisto importantissimo Che va a sommarsi a Mandzukic, a Dybala, a Higuain Spero Quadrado perché si parla tanto di una sua cessione Ma secondo me è un giocatore molto importante Lo stesso Piazza che l'anno scorso è stato molto sfortunato Schick appena arrivato E magari anche Bernadeschi Con questi giocatori la Juventus avrebbe un parco attaccanti veramente formidabile Ora manca un terzino di destra E chissà che Quadrado non possa essere adattato Perché comunque le caratteristiche per fare terzino ce le ha L'ha già fatto a Lecce Sicuramente una dimensione diversa da quella che adesso è la Juventus Ma perché no anche Dani Alves comunque è un giocatore molto offensivo E in quella zona del campo ha sempre fatto bene E con Quadrado terzino non mi farebbe così schifo avere un Deciglio, un Darmian Come riserva del nostro colombiano preferito Ma vedremo perché il mercato è praticamente appena iniziato La Juve ha già speso tanti soldi E mi aspetto anche altri grandi colpi di mercato Altri grandi nomi Perché Agnelli ha detto prenderemo un top player E comunque la Juve ha una potenza di fuoco di più di 100 milioni da spendere E in questo momento non ne ha spesi tantissimo Perché sia i pagamenti di Schick che di Douglas Costa Saranno dilazionati in più anni O comunque con il prestito E quindi non incide tantissimo il livello di bilancio Quindi secondo me tanti soldi verranno spesi nei prossimi giorni E possiamo aspettarci veramente dei grandi Quindi grandissimi colpi per una Juventus ancora più forte di quella dell'anno scorso Non era facile ma inizia a prendere forma Inizia ad avere un'idea Comunque fatemi sapere se questo tipo di vlog può piacervi Perché mentre esco da lavoro non mi costa niente perdere 5 minuti Per registrare qualche notizia di calcio mercato Tra un video della carriera Un video del calcio mercato vero e proprio Date che ho in mente qualcosa di simpatico Fatemelo sapere qui sotto con un commento Riempite di like Perché stanno arrivando dei giocatori fantastici Schick, Douglas Costa, Bernardeschi, Szczesny Questi quattro nomi sono solamente i primi della campagna acquista della Juve E Bentancur è già a Torino Il ritiro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti